Ciao, sono Roberto Ripodi, ho 33 anni e vengo da Viterbo. Qui le persone sono state fin da subito molto gentili e cortesi. Tutti parlano italiano, quindi non ci sono problemi linguistici. E soprattutto ho visto una grande professionalità nell'equip. Anche per quanto riguarda i dottori, ho avuto scegliere i suoi migliori. Come potete anche evincere da questo video, a distanza di soli 9 giorni, i risultati sono questi qua. E credo che sono molto positivi, considerando solo questo breve tempo. Ma soprattutto vorrei dire a tutti che l'operazione è andata benissimo.